Interessante perché per la prima volta in un'assemblea di acqua latina con una posizione unitaria di tutti i sindaci presenti, ma allargando anche la nostra posizione ad altri sindaci che non sono strettamente espressione del PD ma sono sicuramente all'interno di un'area del centro-sinistra progressista, siamo riusciti per la prima volta a mettere in grave difficoltà la presidenza di acqua latina su un tema importante come il bilancio. Ora la situazione è tale che ha fatto reagire, come sapete, malamente il presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale semplicemente per aver io detto che era uno dei peggiori servizi irrici d'Italia ha minacciato querele e via proseguendo.